notte non è vero funziona paura buonasera a tutti scusate la butà dello scherzo, sono Francesco Pezzulli e questa è la mia voce e non solo, infatti la presto a tanti volti molto più famosi del mio, qui ne vediamo qualcuno, tanto per ricordarveli, magari li avete sentiti, Sherlock, Benedict Cumberbatch, Aaron Paul in Breaking Bad, Norman Reedus in Walking Dead, quello al centro, Leonardo DiCaprio, Milo Ventimiglia in This Is Us, Daniel Brühl in Rush, tanti altri, eppure devo confessarvi che ancora oggi quando mi riascolto mi capita di non piacermi, immagino sarà capitato anche a voi, chi quando si riascolta magari registrato su una segreteria telefonica o su un messaggio inviato su un telefonino ha provato anche solo per un istante un senso di orrore, alzi la mano, ebbene sappiate che è una cosa assolutamente normale, perché dipende da un processo psicologico in sito in noi dovuto dal superio censore, che è praticamente una vocetta che dentro di noi ogni volta che parliamo tende a smontarci. A scuola di recitazione, a teatro c'era un esercizio molto utile e costruttivo che consisteva più o meno in questo, me lo faceva fare un mio mentore Ennio Coltorti, un attore era seduto al centro del palcoscenico, si sedeva su una sedia e recitava il monologo che aveva imparato a memoria, intanto l'insegnante di recitazione ti girava intorno e ti sussurrava nelle orecchie le peggio cose, tutti i difetti, gli errori e praticamente simulando quella vocetta che abbiamo dentro. Quando ho raccontato quest'aneddoto a un mio amico, lui mi ha detto io sono avvantaggiato, sono sposato e questa vocetta ce l'ho tutti i giorni a casa e mia moglie, quindi ci sono allenato, sono avvantaggiato. Allora dicevamo liberatevi dal senso ipercritico, questo è il mio primo consiglio, imparate a piacervi o quantomeno ad accettarvi, anche perché non esistono belle voci, a volte capita, qui abbiamo ospite un direttore di doppiaggio, Marco Cortesi, che degli attori si propongono per fare un provino, gli dicono ho una bella voce, posso fare doppiaggio? E lui risponde sempre io ho delle belle mani, posso fare il chirurgo, cioè è molto più importante quello che si comunica con la voce, una voce esiste e basta, una voce può essere in tanti modi, può essere rauca, può essere graffiata, può essere stridula, può essere acuta, può essere profonda. Qui ho portato due persone con cui ho avuto il piacere di lavorare, che mi fanno compagnia, erano presenti anche alla mia discussione della tesi, Alberto Sordi e Ferruccio Amendola, penso li ricordate tutti, probabilmente non li ricordate tanto per la voce in sé, quanto per quella carica emozionale che comunicavano quando recitavano. Alberto Sordi eppure è stata la voce di Oliver Gerardi di Stagno e Olio e vabbè Ferruccio Amendola ha dato la voce a Dustin Hoffman, a Al Pacino, a Stallone, a De Niro, insomma ai più grandi e con quel suo tono rauco, sporco e se vogliamo anche qualche piccolo difetto di pronuncia, quella zeppola, penso che abbia toccato un po' il cuore di tutti noi. Quindi dicevamo che non esistono belle voci, però esistono voci educate. Quando parliamo non dobbiamo accomodarci su una tonalità, dobbiamo cercare di modulare, dobbiamo anche esercitarci sulla nostra estensione vocale. Potenzialmente noi abbiamo un'estensione vocale che va dalle due alle tre ottave delle note parlate e attraverso la voce noi esprimiamo tutte le sfumature delle emozioni e tutte le sottigliezze del pensiero umano. Quindi immaginate che strumento potente e rivelatorio nel senso letterale del termine, cioè la voce ci rivela tantissimo quando ci relazioniamo con una persona. Allora in questo senso la voce come strumento rivelatorio. Vi sto facendo un discorso in realtà sperando di lasciarvi qualcosa di utile, non vi voglio parlare strettamente del mio ambito professionale che è quello del doppiaggio, della radio o della comunicazione, ma sto cercando di fare con voi anche dei piccoli giochi se vogliamo che ci possono aiutare a migliorare l'uso dello strumento e a prendere consapevolezza. C'è qualcuno più importante di me che ha detto questa cosa, mi sarebbe piaciuto dirlo a me, è impossibile non comunicare, l'ha detto Paul Wozlavic, il più grande comunicatore moderno. Che cosa affermava Wozlavic? Che nel momento stesso in cui noi stiamo in silenzio già stiamo comunicando qualcosa. Però il fatto di prendere coscienza di questo modifica automaticamente il nostro modo di stare in silenzio. La prossima volta che noi staremo fermi sapremo che anche la nostra fermezza sta comunicando qualcosa. Figuratevi tutto questo applicato alla voce. Quando comunicheremo noi staremo dando qualcosa a qualcuno. Allora la voce è uno strumento che è argomento di disciplina di numerose materie che vanno dalla psicologia, dalle scienze cognitive, fino all'anatomia. Allora permettetemi una piccola parentesi, anatomia veloce, sulla anatomia vocale. Il nostro è uno strumento gratuito, ed essendo tale molto spesso non gli diamo la dovuta importanza, è universale, nel senso che non importa a quale latitudine ci troviamo, ma in tutto il mondo gli esseri umani usano l'apparato fonatorio allo stesso modo. Fin da quando siamo piccoli siamo abituati a sentir parlare di corde vocali. Ecco, non è uno strumento a corde, ma in realtà è uno strumento a fiato, dove un muscolo troppo spesso dimenticato che è il diaframma domina questo strumento e come un mantice soffia una quantità e una qualità di aria che fa vibrare le corde e ci fa emettere un suono. Allora, se voi siete d'accordo io prenderei confidenza con la respirazione diaframmatica. Vi va? Insieme? Ok. Staccatevi poco a poco dalla sedia, mettete una mano qui all'altezza della pancia e una sul petto. Dobbiamo riuscire a respirare senza muovere la parte superiore, quindi escludiamo la respirazione polmonare solamente con la respirazione diaframmatica. Proviamo a ispirare per due secondi e a espirare per due secondi, più o meno così. Provate. Perfetto. Se voi faceste questo esercizio per una settimana di seguito, la vostra capacità respiratoria aumenterebbe. Perché? Perché il diaframma è un muscolo e come tutti i muscoli, se allenato, dà dei risultati. Migliora. La respirazione, non dimenticatano mai, è il nostro salvagente, la nostra ciambella di salvataggio. Quante volte vi sarà capitato in un momento particolare di stress che vi hanno consigliato di respirare profondamente? O magari avete avuto la salivazione azzerata e vi hanno consigliato di concentrarvi sul respiro? Questo perché voce ed emozione sono strettamente correlate. In questo mi ricollego un po' a quello che ha detto stamattina Stefano, il neuroscienziato del web, del marketing, dove parlava di emozione e pensiero. Emozione e voce ancora di più. Quando uno parla attraverso la voce si può percepire tutto. Allora oggi io vorrei insegnarvi a ridere, però solo se vi va di partecipare, altrimenti vado via subito. Lo facciamo? Allora, quando vengono gli attori di solito a doppiaggio dicono ah ridere è difficilissimo, è una cosa impossibile perché non sono mai vero, sono sempre finto. Allora oggi vorrei fare questo esercizio con voi. Perché? Perché c'è un guru dello yoga della risata che si chiama Richard Romagnoli che racconta che quando noi ridiamo abbassiamo il picco di cortisolo responsabile dello stress e produciamo endorfine massaggiando il muscolo diaframmatico. Allora adesso noi proviamo a fare dei colpi di tosse così. Provate. Spero che il picco dell'influenza sia passato altrimenti siamo rovinati. Adesso proviamo ad avvicinarli tutti quanti. Siete molto più bravi di alcuni attori con cui ho collaborato. Adesso leviamo il fiato e proviamo a inserire il suono più o meno così. Allora già lo sapete? Avete già fatto? Va bene. Adesso questa è una risata dal punto di vista tecnico. A me viene in mente quando rido viene in mente Tonino Accolla. È stato un grandissimo doppiatore del passato che purtroppo è scomparso che era la voce di Eddie Murphy. Insieme al direttore di doppiaggio uno dei principali che ci sono stati che era Renato Izzo avevano inventato una risata che era quella di Eddie Murphy che in originale in inglese non c'era. Era più o meno attraverso questa risata riusciva a esprimere la psicologia del personaggio, la sua scaltrezza, la sua furbizia. Allora adesso io vi aiuterò a ridere con un pensiero. Cioè quando noi dobbiamo ridere dobbiamo aprire dei cassetti emozionali in modo tale da riuscire a rilassarci. Facciamo un esempio. Ridiamo con le vocali. Adesso ridiamo con la O. Vi conosciamo tutti. Grassoccio con la barba e probabilmente quando busta la porta fa ho 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 ho. Provate voi. Avete tutti i nipotini, i figli. Adesso proviamo una risata cattiva. La fare questo esercizio ma è solamente per capire che le emozioni sono parte fondamentale della nostra vita. È impossibile non provare emozioni. Però possiamo imparare a gestirle perché imparando a gestirle possiamo ottenere un risultato migliore. Quindi quello che io sto cercando di darvi oggi è una maggiore consapevolezza in voi stessi e anche un po' più di sicurezza. Adesso arriva il momento George Orwell, tanto caro a Savio e al grande fratello. All'MIT di Boston stanno studiando delle modelli di analisi vocale attraverso i quali solo ascoltando una voce registrata riescono a determinare eventuali problemi interni. Ovvero ascoltando la voce riescono a capire il respiro vocale se qualcuno ha problemi a livello cardiaco. Se qualcuno sbaglia o ha dei problemi di dizione su alcune sillabe possono prevenire degli stati di depressione. Oppure una non linearità nel suono della voce può essere una persona soggetta al Parkinson. Grande fratello. Provate a immaginare adesso in un momento in un mondo fortemente dominato dalla tecnologia con assistenti vocali come Google Home, Alexa, sistemi di dettatura, messaggi telefonici inviati e i Siri. Da un e i Siri loro riescono a determinare su una donna il momento in cui esatto del suo ciclo mestruale. Cioè quindi pensate all'applicazione, a tutte le implicazioni etiche che può avere la voce. Perché vi sto dicendo questo? Perché la voce è uno strumento straordinario e purtroppo tendiamo a darlo per scontato. Vi voglio lasciare con un ultimo gioco, un gioco di articolazione. Ogni volta che parlo parlo per qualcuno. La forma è importante quanto il contenuto. Se non funziona la forma viene mortificato anche il contenuto. E allora oggi io vorrei lasciarvi con un gioco che ha avuto molto successo a Radio DJ con il trio Medusa proposto insieme a Francesco Lancia, l'autore del trio, durante Chiamatero Matrium, faccio un saluto anche al trio, che si chiamava Li Vuoi Quei Kiwi Contest. Qualcuno, qualche ascoltatore la DJ lo conosce. Diciamo in dieci secondi quante più volte potete Li Vuoi Quei Kiwi. Siete pronti? Li Vuoi Quei Kiwi, Li Vuoi Quei Kiwi, Li Vuoi Quei Kiwi, Li Vuoi... Basta, basta, fermiamoci qui. Questo piccolo gioco probabilmente vi risuonerà nella mente come un mantra anche dopo che ci saremo salutati. Oggi abbiamo fatto un piccolo excursus sul potere della parola. Abbiamo fatto conoscenza col nostro potere più grande. Abbiamo avvoggiato la sua scoperta, ne abbiamo preso confidenza e adesso sta a voi capire com'è meglio impiegarla. E visto che il professor Corradini ha citato Dante, anche io cito Dante. Dante disse una cosa meravigliosa. Il primo vero atto di concepimento non fu l'atto sessuale dei suoi genitori, ma la prima parola che si dissero. Grazie a tutti per il video.